Nella scuola primaria Rita Levi Montalcini con il sindaco di Torrevecchia a Teatina, Francesco Seiccia, ha un momento molto importante legato all'educazione stradale. Un tema di scottante attualità a cui voi tenete in modo particolare. Questa è un'iniziativa che parte grazie alla disponibilità del nostro comando di polizia locale, con il quale questo progetto vogliamo sensibilizzare i ragazzi a questa tematica importante, ovvero quella dell'educazione stradale. Noi riteniamo che iniziare da piccoli, favorire, inculcare i principi delle sane abitudini stradali possano essere poi utili un domani affinché i ragazzi sappiano come comportarsi per strada e per le vie del paese. Oggi ci saranno dei baby vigili ad animare questa giornata ricca di contenuti, un messaggio da lanciare all'intera collettività. Sì, il progetto è molto molto bello perché al termine di questo percorso formativo che li vedrà formarsi sia come vigili, sia riceveranno anche dei piccoli berretti, delle casacchine, vedranno i ragazzi impiegati proprio sul campo, quindi andranno insieme alle nostre forze di polizia locale a fare e a rilevare le infrazioni. Ovviamente non saranno molte vere, saranno solo degli avvertimenti in cui i ragazzi diranno agli adulti guardate questi spazi sono nostri, queste strade ci giochiamo noi, quindi facciamo attenzione. Sindaco, tutto questo perché sono in aumento purtroppo le infrazioni stradali, quindi voi ci tenete a sensibilizzare l'opinione pubblica? Sì, è una forma anche di tutela del cittadino, non vogliamo vessarli con le contravenzioni ma il nostro obiettivo è quello di sensibilizzarli, fargli capire quali sono le regole da seguire per rendere il Paese un posto più fruibile.